Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Le restrizioni del Governo relative all'utilizzo dei bonus edilizi contenute nel Decreto Sostenitair sta creando non poche difficoltà e in Abruzzo, dove prevalgono imprese di piccole e medie dimensioni, il rallentamento è sempre più evidente in quest'ultimo periodo. Garantire continuità e certezza al meccanismo della cessione del credito diventa fondamentale, spiega Michele Borgia, presidente della BCC di Cappelle sul Tavo, intervenuto a margine di un incontro a Pescara sulla figura dell'imprenditore Lucio Marco Tullio, scomparso nel 2020. È un momento in cui ci troviamo di fronte contro i colpi del rallentamento delle grandi misure sui bonus edilizi perché c'è stata una fase di grande slancio a cui ha fatto seguito una presa di posizione abbastanza netta del Governo rispetto ad uno sviluppo indiscriminato di questa misura. Quindi molte aziende che erano partite senza considerare poi l'ipotesi che potesse fermarsi da qualche parte questa misura, adesso si trovano nella condizione di chiudere dei cantieri e di sviluppare delle attività. Stiamo studiando una modalità per rendere il meno possibile complessa questa prospettiva e ci auguriamo che il Governo riapra in una prospettiva di continuazione almeno dei cantieri già aperti, riapra appunto questa disponibilità e metta noi come istituti e gli operatori economici come destinatari della provvidenza nella condizione di completare i cantieri e quindi evitare che ciò che è nato per fare del bene al tessuto economico finisca addirittura per danneggiarlo.